19, 7, 29, 28, 73, 6, 62 sono pronti, sempre le misure di distanza tra un cane e l'altro e questo lo raccomandiamo ai proprietari manteniamo la distanza, grazie sono sempre animali, come sapete si possono azzuffare l'un con l'altro vediamo, siamo giudicati numero, numero, terzo classificato 73, un applauso qual è il 73, vediamo ah, eccolo qua, eccolo qua il secondo classificato, vediamo il secondo classificato è il numero 28 1, 2, 3, un po' di pausa per il primo classificato numero 6 complimenti al proprietario, dov'è il numero 6? dov'è il numero 6? ah, complimenti, complimenti, bene grazie a te per aver partecipato a posto una e due è venuta guarda bene guarda bene guarda bene mi hanno messo sapere che sono 3,7 per la femminuccia prima cosa? primo posto il numero 56 il numero 56 dov'è il numero 56? un applauso, una foto il secondo classificato è il numero 9 ancora un applauso ecco, è vero quindi che ha la lingua viola? io lo vorrei sentire da un proprietario prima classificazione oh, finalmente ci siamo classificati, primo classificato è il numero? no, no, tutti sono classificati ah, tutti bene, per via dell'età tutti classificati complimenti primo classificato saranno sicuramente al bed shop dopo guarda, guarda, guarda Ivano 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 mi raccomando diamo un buon giudizio altrimenti qua i pastori tedeschi rimangono allora, il primo classificato è il numero? 18 18 un applauso secondo classificato numero 79 complimenti man mano potete uscire se volete si allontanarsi grazie fate un po' di spazio grazie il terzo è il numero 20 terzo classificato numero 20 complimenti quarto classificato la medaglia è per il numero 46 quinto classificato è medaglia per il numero 69 bene, complimenti a questi due soggetti pastore tedesco grazie come fate apposta e ancora buona continuazione per voi e per noi ancora che poi non c'è distinzione perché chi partecipa sono tutti quelli che vingono poi la coppa non è che sia tra una e l'altra è tutta la stessa tutti i chihuahua in ascolto si preparano diamo un pochino un po' di spazio tra di loro scusate per la lunga attesa che è stato avendo a cui questa sera però purtroppo abbiamo avuto dei problemi all'inizio un applauso e un applauso e un applauso e un applauso e una coppa a questo giorno complimenti secondo classificato numero 58 terza classificata numero 10 questa è l'ultima passerella finalmente e poi passiamo ad altre belle cose da vedere si danno già le coppe bene allora primo numero numero sono due primi con le età diverse ciò prendiamo che è il numero 70 numero 70 numero 13 ciò stiamo classificando qui nei spitz due primi con età diversa va bene ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.